Sulla NM, Sindaco, questo continuo botta e risposta alla Regione, in mezzo i cittadini non ci stanno capendo molto, e le devo dire la verità, a volte neanche noi ci capiamo molto. Io mi firmo qua, perché invece la vicenda è talmente chiara che vi metto a disposizione le carte, perché altrimenti la sensazione è questa qua, che ci saranno due persone che dicono una versione, invece c'è una versione che è documentata dalle carte e un'altra che dà la propaganda, quindi ho detto già più volte il mio pensiero, non lo voglio ripetere, sono a vostra disposizione le carte da cui si evince quello che fa il Comune e quello che fa la Regione, quello che abbiamo messo in campo noi e quello che mettono in campo gli altri, noi diffonderemo sempre di più le carte a tutti i cittadini, così non si dovranno trovare di fronte all'avvilimento di dover ascoltare ogni giorno una persona che attacca un'altra e l'altra è costretta a replicare, a difendersi, perché se stai zitto sembra quasi acquiescenza, quindi mi fermo se no continueremo anche noi in qualche modo a contribuire a questo ping pong, quindi a vostra disposizione le carte in modo che nei vostri servizi televisivi, radiofonici, nei video, nei social avete a disposizione i documenti in modo che il cittadino di fronte ai documenti potrà al massimo chiedere una spiegazione se non gli è chiara qualcosa, ma come sempre ci insegna la vita, carta canta, il resto possono essere parole.